Musica Benvenuti alla prima edizione del Tg De Nicola Sasso Oggi parleremo della collaborazione dell'istituto comprensivo statale con il giornale locale TV City Piccoli giornalisti crescono all'istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco Si è chiuso in questi giorni il progetto di giornalismo promosso dalla scuola in collaborazione con TV City Gli alunni delle classi terze dell'istituto si sono cimentati nella conoscenza del giornalismo Apprendendone i suoi aspetti e diventando piccoli cronisti Un percorso finalizzato ad apprendere conoscenze e competenze nell'ambito della scrittura e del video giornalismo Durante questo percorso si sono medesimati nei diversi ambiti del giornalismo apprendendone le tecniche Gli alunni hanno partecipato ad un progetto di giornalismo che ha creato in loro nuove emozioni Gli studenti motivati e interessati si sono cimentati nel ruolo di cronisti Per realizzare interviste, effettuare riprese e comprendere le finalità di una professione Che ha un'importante funzione di utilità sociale Questa avventura inizia circa dove si fa, con l'aiuto di due esperti Dall'intervista alla dirigente scolastica Alessandra Tallarico nella sala teatro dell'istituto Alla registrazione negli studi televisivi di TV City La preside ha annunciato i nuovi progetti in cantiere per la scuola Tra cui una biblioteca digitale e un indirizzo musicale Invitando i ragazzi ad essere determinati per realizzare i propri sogni Il PON si è concluso con l'intervista a scuola alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia Che ha risposto a tutti i quesiti e alle curiosità degli studenti sul mondo della politica e non solo Tanti temi trattati dall'attualità alla sanità Ai nuovi progetti che interesseranno la città di Torre del Greco Un bel momento di condivisione ed apprendimento